Salve a tutti e bentornati sul canale. Oggi parleremo di quando Totti rifilò un calcione terribile a Balotelli nella finale di Coppa Italia 2010. Sigla e poi ne parliamo. È il 5 maggio 2010 e Inter e Roma si affrontano nella finale di Coppa Italia. In realtà in quel periodo Inter e Roma si affrontano spesso in finali di Coppa Italia, Supercoppa Italiana, insomma è una partita che si è vista parecchie volte, però questa volta è una partita dal sapore speciale. Perché? Perché Inter e Roma si stanno contendendo non solo la Coppa Italia, ma anche il primato in campionato e quindi la vittoria dello Scudetto. Le due squadre arrivano a questo appuntamento con uno spirito diametralmente opposto. Infatti l'Inter di Murigno è assolutamente galvanizzata perché si appresta a vivere un mese, quello di maggio, assolutamente fondamentale che può proiettare la squadra nella storia del club. I romanisti invece arrivano a questa finale di Coppa Italia abbastanza incavolati. Perché? Perché la Roma ha fatto un campionato straordinario. Partita male, dopodiché, dopo che subentra Ranieri come allenatore, la squadra praticamente è svolta e dopo una rimonta clamorosa e allo stesso tempo eccitante, esaltante, riesce a raggiungere e superare l'Inter a poche giornate dalla fine del campionato. Diciamo che però sul più bello poi la Roma si inceppa. Infatti dopo aver tenuto la testa della classifica per un turno di campionato perde in maniera assolutamente incredibile contro la Sampdoria, un'ottima Sampdoria per carità, ma veramente la Roma perde 2-1 dopo essere stata in vantaggio per 1-0 e dopo aver creato almeno 5-6 palle gol nella prima mezz'ora della partita, insomma una partita almeno nel primo tempo dominata e che poi la Roma vede sfuggirgli di mano grazie all'ex Cassano che fornisce degli assist meravigliosi per Pazzini. Insomma alla fine la Roma si trova a perdere in casa 2-1, l'Inter riguadagna la testa della classifica e a quel momento non la mollerà più. Si arriva quindi al 5 maggio appunto con i giocatori della Roma che sono piuttosto incavolati perché si rendono conto che hanno buttato via praticamente la grandissima occasione di poter vincere un campionato che sarebbe stato assolutamente memorabile anche se poi quel campionato che verrà vinto dall'Inter nulla toglie la stagione assolutamente strepitosa degli uomini di Ranieri. Ma torniamo appunto al 5 maggio. Inter e Roma si affrontano per la finale di Coppa Italia, la partita si disputa a Roma e diciamo che il clima è piuttosto rovente, i tifosi giallorossi tifano come sempre in maniera meravigliosa per la propria squadra ma i giocatori in campo, i romanisti si vede che sono proprio nervosi, non sono tranquilli che poi in realtà vincere quella Coppa Italia per la Roma diciamo che è fondamentale in quel momento sia perché onestamente sarebbe anche stato giusto portare a casa un trofeo in quell'annata in cui la squadra ha dimostrato un carattere incredibile ma poi anche perché vincere quella Coppa Italia avrebbe sicuramente destabilizzato la tranquillità dell'Inter che magari avrebbe potuto perdere dei colpi in campionato pensando di concentrarsi sulla Champions League e invece poi chiaramente sappiamo tutti che la partita finisce 1-0, gol di Milito che in quel maggio sarà praticamente immarcabile, sarà forse il giocatore più forte del pianeta per quel mese perché segnerà nella finale di Coppa Italia contro la Roma, segnerà contro il Siena all'ultima di campionato facendo vincere lo scudetto all'Inter, realizzerà poi una doppietta meravigliosa contro il Bayern di Monaco in finale di Champions League, praticamente Milito nel mese di maggio a mio avviso è stato il giocatore più forte del mondo per un mese però in quel mese lì è stato veramente una roba fuori da qualsiasi logica, più veramente una cosa clamorosa. Comunque torniamo appunto alla partita e come dicevo i giocatori della Roma scendono in campo abbastanza incavolati, tutti ingrugniti, abbastanza arrabbiati e decidono di affrontare la partita in maniera piuttosto aggressiva e infatti Burdisso a pochi minuti dall'inizio dell'incontro decide che la partita di Snyder è durata fin troppo e decide di abbatterlo, praticamente lo fa fuori e di conseguenza Snyder abbandona la partita veramente a 5 minuti dall'inizio dell'incontro, ben benissimo. A questo punto Murigno si gira verso la panchina e vede lì Balotelli che lì salgo seduto tranquillo e dice bene Mario è il tuo momento, entra in campo e fai vedere quello che sai fare e devo dire che l'ingresso di Balotelli è importante perché Balotelli è l'unico giocatore fra i 22 in campo capace di mettere d'accordo tutti quanti interisti e romanisti, nel senso che tutti ce l'hanno a morte con lui e infatti con lui non ce l'hanno solo la tifoseria romanista e la tifoseria nerazzurra, poi vedremo perché, ma ce l'hanno con lui ce l'hanno anche i giocatori della Roma e anche i giocatori dell'Inter e lui dice come è possibile che tutti i giocatori dell'Inter ce l'hanno a morte con un proprio compagno? Ecco una motivazione ce l'ha da Materazzi che non è mai stato devo dire la verità per quanto io sia interista il mio calciatore preferito proprio come tipologia di giocatore, diciamo che su Materazzi, ok ci siamo capiti, però Materazzi racconta un'aneddoto importante, racconta di quando lui ha menato Balotelli al termine della semifinale di Champions League disputata contro il Barcellona, infatti per far capire l'amore che i compagni dell'Inter nutrono verso Balotelli, Materazzi racconta La famosa scazzottata Balotelli nell'anno del triplete? Sì, gliel'ho data, a Mario voglio bene, ma in quel caso se l'era davvero meritata, al di là di quello che poi è successo, siamo poi tornati ad essere amici, di più come fratelli perché in quella circostanza lui fece una cosa che non doveva fare, Mario non giocò bene contro il Barcellona e non c'entra niente col discorso della maglietta lanciata che tutti dicono, che per me invece passò in secondo piano, ognuno fa quello che crede e si assume le proprie responsabilità. Ricordo però che eravamo sul pullman e siccome lui si aspettava di giocare, sentì da dietro a me Mario che diceva Oggi se entro non gioco bene e io gli dissi Mario, guarda che se tu entri e non giochi bene, io poi ti devo picchiare perché noi oggi giochiamo contro i marziani e lui disse Ma cosa dici? Quindi io risposi Mario, io te lo dico, se oggi tu entri e non giochi bene, ti gonfio E così ho dovuto fare, contro il Barcellona Mario giocò malissimo e perse la testa Mario entrò, il mister lo mise perché volevamo fare il quarto gol al Barcellona e sapevamo che andavamo nella tana del lupo dopo 15 giorni e ci potevano fare un sedere così Poteva andare in contropiede e invece tirò da fuori, perse la testa La gente si incavolò, c'era Milito in panchina al mio fianco che lo voleva ammazzare Quindi come vediamo, stando alle parole di Materazzi, non solo Materazzi l'ha menato Ma anche Milito ce l'aveva morte con lui E oltre ad avercela morte con lui Milito ed essersi arrabbiato Materazzi appunto di doverlo menare Anche i tifosi nero-azzurri non lo possono vedere dopo quanto accaduto In realtà non solo dopo l'incontro col Barcellona quando lanciò la maglia disgustato Ma anche per tutto quello che ha combinato durante l'anno, per i suoi atteggiamenti Per aver indossato la maglia del Milan, insomma diciamo che la frangia nero-azzurra dello stadio non lo adora E quella romanista ce l'ha ancora di più A raccontare il motivo è Francesco Totti che nella partita di finale di Coppa Italia del 2010 parte dalla panchina Però appunto Totti racconta che c'è già stato un pregresso sia nella Supercoppa italiana giocata l'anno prima Sia nella partita di campionato disputata a Milano tra Inter e Roma nel 2009 E infatti Totti dice Ricordo che nella finale di Supercoppa, mentre si accingeva a battere un calcio d'angolo L'ho sentito pronunciare Romani di M Può capitare un momento di rabbia, ma offese come queste non si dovrebbero ripetere Invece si sono puntualmente ripetute domenica con l'aggiunta della linguaccia ai miei compagni Che si sono risentiti e prendevano le difese dei 2500 tifosi che sono stati derisi Non sono e non voglio essere nello spoglietoio dell'Inter, ma credo che neanche lì Balotelli abbia comportamenti giusti Mi ha dato fastidio vedere Balotelli avere un comportamento irriguardoso con Panucci Magari se Cristian gli fa vedere tutti i trofei che ha vinto in carriera, Balotelli si potrebbe fare una foto ricordo Personalmente posso anche risultare antipatico con certi atteggiamenti, ma mi sono sempre attenuto a queste regole di vita importanti E per chi non se lo ricordasse le parole di Totti vengono pronunciate appunto al termine dell'incontro Disputato a San Siro nel 2009 fra Inter e Roma, finito 3-3 Quando Balotelli segna il gol del 2-3 fa la linguaccia ai tifosi romanisti E poi la fa anche a Panucci, o prima la fa Panucci e poi anche ai tifosi romanisti Insomma riesce a rendersi antipatico sia ai giocatori della Roma e soprattutto ai tifosi giallorossi Quindi diciamo che Balotelli per fare un riassunto scende in campo e con lui c'erano Murigno Che farebbe volentieri a meno di metterlo in campo ma sa che comunque un talento diceva bene scende in campo C'erano con lui i suoi compagni, c'erano con lui i tifosi dell'Inter, c'erano con lui i giocatori della Roma C'erano con lui i tifosi della Roma, praticamente è stato capace di mettere tutti d'accordo Bravo Mario, giocatori universali come te effettivamente ce ne sono pochi Comunque andiamo avanti Come dicevo l'Inter a metà del primo tempo passa in vantaggio che poi sarà anche il gol della vittoria Con Milito e la partita non sarà una grandissima partita ma è una partita che rimane comunque nervosa Ma si vede che l'Inter rispetto alla Roma è una spanna sopra almeno in quel momento, in quell'incontro E riesce a gestire senza troppi problemi l'incontro I giocatori romanisti si nervosiscono sempre di più Arrivano sempre falli peggiori, fallacci soprattutto Taddei pare particolarmente incarognito E fra quelli più incarogniti c'è anche Totti Totti che è entrato all'inizio del secondo tempo Nervoso perché non è stato schierato fin dall'inizio E nervoso anche perché si rende conto che in quell'incontro l'Inter è effettivamente superiore Però Totti scende in campo sia per vincere la partita Infatti prova un pochino a suonare la carica ma con scarsi risultati Ma soprattutto per vendicarsi di Mario Balotelli Non è un atteggiamento particolarmente maturo da parte di Totti Ma sappiamo che Totti questi agiti in carriera purtroppo li ha sempre avuti Quindi è lo stesso Totti a raccontare quello che accade al minuto 87 Quando la vittoria dell'Inter pare oramai essere certa E Balotelli cerca diciamo di perdere un po' di tempo Trattenendo il pallone insomma cercando di guadagnare tempo Tenendo il pallone lungo la linea di fallo laterale E lo stesso Totti appunto racconta Con Balotelli c'erano già dei precedenti Quella sera insulta di nuovi romani De Rossi è lì lì per colpirlo Viene perfino ripreso dai suoi compagni Dico ai miei vicini di panchina Se entro allo sfondo E davvero mi prudono le mani Ranieri mi butta dentro all'inizio della ripresa Siamo sotto di un gol Provo a organizzare la rimonta ma non è cosa Stavolta l'Inter è più forte Questo ovviamente aggiunge altra frustrazione Così a tre minuti dalla fine non ci vedo più Mi batto lungo una linea laterale con Balotelli Che a gioco fermo mormora qualcosa tipo Ma quando mi prendi? Condito da un insulto La misura è colma Il gioco riprende Lui parte palla al piede verso la linea di fondo Io lo inseguo determinato non solo a colpirlo Ma a fargli proprio male Mi apro uno spazio fra Taddei e Marco Motta Che devono controllarlo Mentre io lì non centro niente E gli assesto da dietro un calcio terribile La palla non so nemmeno dove sia Miro alla caviglia E lui si accartoccia a terra urlando di dolore Un fallo bruttissimo Non aspetto nemmeno il cartellino rosso di Rizzoli È scontato e vado via Quindi stando alle parole scritte da Totti Nella sua autobiografia Questa è la motivazione che lo ha portato A concludere in maniera così brillante Questa partita Questa finale di Coppa Italia Ma a questo punto Sentiamo anche Diciamo l'altra campana Sentiamo infatti cosa racconta Mario Balotelli E Mario Balotelli dice C'era stata una partita negli anni precedenti In cui avevo zittito i tifosi della Roma Ma non credo che lui ce l'avesse con me Per quel motivo Lui in finale di Coppa Italia Ce l'aveva con il mister Che non l'aveva fatto giocare dall'inizio E per questo era nervoso Alla fine della partita Io ho anche scritto Perché mi hai dato il calcio? Lui è stato disarmante nella risposta Dai non ti ho neanche preso bene Poi Balotelli Qualche giorno dopo Attraverso un'intervista rilasciata a Vanity Fair Decide di rincarare la dose E asserire che Totti Nei suoi confronti Abbia usato anche delle frasi razziste E Balotelli appunto Attraverso le pagine di Vanity Fair Dice Io a Totti ho detto solo una cosa Tipo Continui a giocare o vuoi fare il bambino? Lui mi ha risposto con un insulto razzista Poi ho sentito che diceva Tiago Motta Lo spacco Io ho sorriso e sono andato via Pochi secondi dopo è arrivato il calcio Quindi Balotelli asserisce che Totti Oltre ad aver ritirato questo calcione Lo abbia anche insultato con frasi razziste Chiaramente è la parola di Totti Contro la parola di Balotelli A me personalmente sta molto più simpatico Totti Per quanto sia un personaggio assolutamente folle In alcune circostanze Però ripeto la parola di uno contro quella dell'altro Chissà Comunque naturalmente poi sui vari giornali Il giorno seguente escono le pagelle La pagella di Fabio Licari e della Gazzetta dello Sport È abbastanza spietata E infatti recita Totti voto 4 Incomprensibile tutto Incomprensibile il fallo su Milito Il calcetto su Motta Il calcione a Balotelli Un giallo Poi un rosso diretto In mezzo niente A difendere Mario Balotelli Scende in campo anche Mino Raiola E lo fa sempre insomma Con toni pacati In maniera misurata Sempre con l'eleganza e lo stile tipico Che hanno sempre contraddistinto il procuratore E infatti Mino Raiola dichiara Per un gesto premeditato ci vorrebbero sei mesi di stop Non solo la squalifica in Coppa Italia In Brasile c'è anche l'arresto per atti razzisti Cosa dovrebbe dire adesso Juan al suo capitano? Come mai fa il gladiatore solo all'Olimpico Mentre fuori casa è un agnellino? Quindi come dicevo Mino Raiola Fa questa richiesta assolutamente equilibrata Infatti dice sei mesi di squalifica per il calcio rifilato E galera per frasi razziste Frasi razziste che appunto vengono riferite da Balotelli Non si sa se effettivamente siano mai state dette Però ripeto questo dice Balotelli E questo io vi riporto Totti però non si sottrae all'inciaggio E il giorno seguente attraverso il suo sito personale Suo sito internet personale Risponde a tutte le accuse e dice In una partita e in momenti così importanti della stagione Può capitare di essere nervosi Sul campo poi non sempre si riescono a ignorare offese pesanti Diretta a infangare una città e un intero popolo Soprattutto quando questi continui insulti provengono sempre dalla stessa persona Che fa della provocazione sistematica il suo biglietto da visita L'ho colpito perché mi aveva insultato due volte E poi per quello che aveva fatto l'anno scorso a San Siro Io non l'ho dimenticato A questo punto Totti Oltre a prendersela con Balotelli Se la prende anche con Gian Paolo Montali E uno dice chi è Gian Paolo Montali? Ecco Gian Paolo Montali è il coordinatore dell'area sportiva della Roma E cosa ha fatto di grave Gian Paolo Montali Ecco Gian Paolo Montali si è permesso di stigmatizzare il gesto di Totti Dire no queste cose non si fanno Il capitano ha sbagliato Totti la prende benissimo Insomma da persona matura Quale dimostra di essere in questa occasione Totti E sempre attraverso il suo sito internet Totti accusa Gian Paolo Montali e dice C'è un'altra questione che mi preme chiarire Chi ama veramente la Roma Chi è tifoso e ha senso di appartenenza a questi colori Capisce cosa rappresenta questa squadra per noi E chi si permette di giudicare Se qualcosa che viene fatto in linea con la storia della Roma Probabilmente c'entra poco con la nostra appartenenza Sono personaggi di passaggio Che usano la nostra fede per farsi pubblicità Spesso la gente sia dentro che fuori Trigoria Pensa che se io non parlo Non vedo e non so ciò che accade Ma dopo vent'anni di carriera con la Roma So perfettamente tutto di tutti E qui mi permetto di fare una piccola appunto personale Allora non ho il minimo dubbio Che Totti tenesse alla Roma Molto ma molto di più Di quanto Balotelli tenesse all'Inter Sappiamo che Totti è l'emblema della Roma Un grande capitano Uno delle ultime bandiere Che io in quanto capitano della Roma stimo Però non è che adesso il coordinatore Dell'area sportiva della Roma Come il povero Giampaolo Montani Condanna il tuo comportamento Che non è che sia stato proprio esemplare Andare lì a fare la caccia all'uomo Tirare un calcione a Balotelli E tu dici Ah no ma tu non sei un vero tifoso della Roma Vergognati Mi sembra in realtà una reazione un po' infantile Da parte di Totti Comunque andiamo avanti Perché Montani non è l'unico a schierarsi contro Totti Ma si schiera contro Totti anche qualcuno di un po' più importante Come il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano E infatti Giorgio Napolitano A proposito di quanto accaduto nella finale di Coppa Italia Dice Ci sono forme di tipo selvaggio Che danno luogo a violenze intollerabili Che oggi si esprimono negli stadi Ma domani chissà dove possono arrivare È un fenomeno preoccupante E le società calcistiche dovrebbero reagire di più Il gesto di Totti è un fatto che rientra proprio in questo panorama Ed è una cosa inconsulta In mezzo a tutto questo delirio di Totti però C'è da dire che il capitano giallorosso A un certo punto fa notare una cosa giusta Una roba diciamo che in mezzo alla sua difesa Del tutto arraffazzonata In realtà è una cosa centrata Una cosa reale E infatti il capitano giallorosso fa notare una cosa Dice vabbè ragazzi Allora io ho tirato sto calcione a Balotelli Ho sbagliato Potrei aver sbagliato Poi più avanti Dirà di essersi pentito E chiederà scusa a Balotelli ufficialmente Però in quel momento dice Voi dite che ho sbagliato Mi spiegate però perché Dopo che io sono andato a tirare sto popò di calcione a Balotelli Che ho sul poveretto Era terra che si arrantolava Era più morto che vivo Nessun giocatore dell'Inter è andato a difenderlo Nessuno mi è saltato addosso per dirmi Oh ma come ti permetti di fare una roba del genere Ma tutti praticamente se ne sono infischiati Anzi addirittura Maicon mentre me ne andavo Mi ha dato il 5 E questo effettivamente Per quanto non giustifichi ripeto L'atto di violenza di Totti Questo fa comprendere come Balotelli Non sia assolutamente amato All'interno del mondo nero-azzurro Di quel periodo Non che adesso sia amato molto di più Però in quel periodo Non lo poteva vedere nessuno Per quanto fosse comunque un buon giocatore E infatti Lo stesso Totti racconta Incrocio Maicon col quale ci diamo il 5 Mi rispetta come io rispetto lui È ovvio ma ben guardare L'assenza di reazione interista è generale E questa è la peggiore delle condanne per Balotelli Il mio non è stato un fallo di gioco È stato un fallo da rissa Che dovrebbe portare i suoi compagni ad assalirmi A parole e a spintoni E i miei a difendermi Invece il mio fallaccio non provoca conseguenze Esco con l'impressione che pure i compagni Vorrebbero menarlo Mentre l'olimpico viene giù dagli applausi E ad Armanforte Alla teoria di Totti Alle parole di Totti Anche Gianni Mura Che sulle colonne della Repubblica Scrive un articolo piuttosto interessante E uno stralcio di questo articolo Fa notare come effettivamente La stragrande maggioranza dei giocatori Dei giocatori in attività o ex giocatori Abbiano comunque detto Vabbè sì Totti si è nervosito Perché quello lì era un personaggio Un provocatore insomma E quindi i giocatori in attività O ex giocatori che siano Tendono se non a dar ragione a Totti Comunque ad essere più magnanimi Nei suoi confronti Infatti Gianni Mura A proposito di questo scrive Ho notato che i più comprensivi con Totti Sono i calciatori Anche dell'Inter Come il capitano Zanetti E gli ex calciatori Come Riva Rivera Zoff Mijailovic Resta in piedi la domanda Su dove stia andando il nostro calcio E su che messaggio mandi E infine chiediamoci perché Mezza Serie A Ha picchiato Picchia E cerca di picchiare Sempre lo stesso giocatore Con la maglia numero 45 Quindi anche Gianni Mura Alla fine un pensierino Lo esprime Dice ma Come mai tutti i calciatori Gli ex calciatori Giustificano Totti Come mai tutti quanti Durante tutte le partite Cercano di menare Balotelli Pare di leggere fra le righe Una roba del tipo Ma non è che il problema è Balotelli E non tanto Totti Che ha avuto questo tipo di reazione E la domanda viene un po' A tutti quanti Comunque alla fine La disciplinare Sanziona Totti Con quattro gare di squalifica Dalla Coppa Italia E infatti Il cartellino Il referto recita Francesco Totti Capitano della Roma È stato squalificato Per quattro gare Di Coppa Italia Dopo l'espulsione Rimediata Nella finale Persa dai giallorossi Contro l'Inter Nel match disputato Mercoledì scorso Totti ha colpito Con un calcio L'attaccante nerazzurro Mario Balotelli Come scrive il giudice sportivo Nel corso di un'azione di gioco Con il pallone Non raggiungibile Totti ha colpito Intenzionalmente un avversario Con un calcio Ad una gamba Anni dopo Comunque Balotelli In un'intervista Instagram In una diretta Instagram Con Erfaina Dice di non avercelo Assolutamente con Totti E di aver dimenticato Fin da subito L'episodio Anche se poi Fin da subito No Visto che poi Qualche giorno dopo È andato a rilasciare L'intervista Vanity Fair Però insomma Balotelli dice No no Ragazzi Mi sono scordato subito Quello che è successo Io l'ho perdonato Immediatamente Infatti Balotelli dice Io Se avessi avuto Veramente qualcosa Contro di lui Io l'avrei detto In quel momento Ho capito Che non ero io Il problema per lui Ha fatto un brutto fallo Ha preso il rosso Cosa avrei dovuto dirgli In quella partita Si è preso le sue conseguenze Negli anni passati Le scuse non me le ha dette Ma il problema Non è quello Non ero io Il suo obiettivo Aveva altri problemi In quella partita Non ce l'ho neanche Mai avuta con lui Ricordo che il campionato Dopo l'ho abbracciato Ha sbagliato E ha pagato Non c'era bisogno Che chiedesse scuse In quel momento Quindi in questo caso Balotelli dice Sì io non ho assolutamente Nulla contro Totti Non mi servivano le sue scuse Ci mancherebbe In questo caso però È un po' in contraddizione Con quanto aveva detto A caldo Dopo la partita Però ci può stare Che dopo la partita Magari si è incavolato Per quello che ti è successo Pretendi le scuse E poi magari a freddo Dici ma Non mi ha fatto le scuse Però fa niente L'ho perdonato Quindi insomma Ci può stare Questa apparente contraddizione Fra quello che dice Balotelli In questa intervista A Erfaina E quello che aveva detto Anni fa Però insomma Ci può stare Questa contraddizione Quello che non torna È il fatto che lui dica Che Totti Non gli ha mai Fatto le sue scuse Perché Totti invece Dice di aver fatto Poi le sue scuse E infatti Totti Anni dopo dirà È stato un accumulo Di nervosismo Parliamoci chiaro Io sono permaloso E ad un momento Sono sbottato In un certo momento È successo Nel campo da gioco A volte è difficile Gestire la testa È stato un accumulo Di molte cose E partite giocate Nel passato Poi il mister Non mi aveva fatto Giocare in campionato Quando sono entrato Non ci ho visto più E sbagliando Ho fatto un gesto Che non avrei voluto fare Però mi dispiace E a Mario Ho chiesto scusa Già in altre occasioni Quindi alla fine Non si capisce Se queste scuse Siano arrivate Se queste scuse Non sono arrivate L'unica cosa chiara È che in questa occasione Nessuno dei due Ha fatto sto popò Di figura Perché è vero Totti È quello che ha sbagliato Ha tirato il calcio Per carità Assolutamente deprecabile Come comportamento Ma anche Balotelli Insomma Non dico che se l'è cercata Non dico che se l'è meritata Perché la violenza gratuita Nessuno se la merita mai Però Non ha fatto nulla Per evitare una situazione Del genere E come diceva Gianni Muri Dice come mai Tutti quanti vogliono Menare Balotelli Quando si gioca Forse forse Ecco un pochino Anche Balotelli Se le va a cercare Ad ogni modo È anche interessante Come fa notare Totti Il fatto che Nessun giocatore Interista Si sia scandalizzato Per il calcione rifilato Sì Eto Pare essere un attimo sorpreso Ma più sorpreso Per il gesto di Totti Che è indignato Perché il suo compagno Ha ricevuto Sto calcione gratuito Cattivissimo Senza realtà Una ragione Ad ogni modo Questo è ciò Che purtroppo Ci ricordiamo Di quella finale Di Coppa Italia Che non è stata Posta grandissima finale In realtà A livello calcistico Però chiaramente Alcune partite Passano alla storia Per il motivo sbagliato E questo è sicuramente Uno di voi casi Io quindi Vi ringrazio per l'attenzione Se il video vi è piaciuto Vi va di mettere mi piace O addirittura Di iscrivervi al canale È cosa naturalmente Graditissima Io vi ringrazio Ci vediamo alla prossima Ciao